Siamo arrivati all'ultimo intervento, ma non per importanza, dell'ingegner De Feo che è il presidente dell'associazione, ma è più solo. Lui è partito da ciò che gli è successo direttamente e poi ha deciso che, come tutti noi, che non si poteva più aspettare, non si poteva più attendere, non si poteva più non vedere, non guardare quello che ci succedeva intorno e quindi si è attivata anche questa ulteriore rete. Vincenzo, grazie. Mi accodo ai ringraziamenti verso la regione Lombardia, il dottor Luca Bernardo, il presidente Rizzi che ci ha ospitato in questa conferenza. La mia esperienza parte da, innanzitutto come ingegnere informatico, sono uno dei primi a aver usato internet in Italia. Il protocollo WWW nasceva nel 1994, io arrivavo a Milano da Napoli nel 1995 a costruire banche d'anni. Poi un'esperienza da genitore che mi ha abbastanza formato e segnato a fin di bene, una storia di successo di ormai sei anni fa, che mai più nella vita mi sarei immaginato di scoprire e poi avendo una mentalità filoamericana come molti esperti negli Stati Uniti ritengono che dai 50 anni in su, io ne ho 55, bisogna dedicare una parte della propria vita agli altri perché gli altri faranno meglio di te se verranno impostati bene. Il problema che ci accomuna dovunque ci sia connessione, quindi sul pianeta, tutta la parte occidentale, soprattutto noi europei, riguarda vari aspetti. Dalla detenzione del dato che con il GDPR di maggio 2018 è diventato come il trattamento del dato, cioè come cammina in Europa il dato, perché è importante per salvaguardare i diritti dell'uomo tutelare anche i propri dati sensibili. Poi c'è il problema che riguarda l'utilizzo della tecnologia che ha avuto un'accelerazione, io sono un fautore della tecnologia e dell'informatica ma non per questo sono un tifoso con tutti gli effetti collaterali, ci sono degli effetti devastanti della tecnologia, gli strumenti che noi maneggiamo tutti i giorni sono progettati perché noi informatici, oltre ad essere dei matematici, dei fisici e dei matematici, siamo anche delle persone che hanno delle conoscenze di natura psicologica, riusciamo a capire come funzionano determinati meccanismi mentali, come si entra in empatia con uno strumento tecnologico affinché poi si arrivi ai sistemi esperti e all'intelligenza artificiale. Gli strumenti che noi maneggiamo sono progettati proprio per non staccarci da loro e sono uno strumento formidabile di controllo, mentre noi adulti riusciamo a poterne parlare un ragazzo che oramai l'utilizzo è dell'età intorno ai 10 anni non ha tutta questa strutturazione mentale e culturale per poterlo gestire in modo ottimale, quindi fatalmente si finisce in una sorta di tossicodipendenza perché tutto quello che sviluppa l'ormone del piacere, l'ormone del benessere, la dopamina, quindi alcol, sesso, gioco d'azzardo, messaggi di successo ricevuti, creano una dipendenza. Infatti io sfido sempre quando incontro i ragazzi, perché io poi parte il tempo la dedico anche ai giovani e alle scuole, sfido sempre i ragazzi a separarsi dal proprio telefonino per una giornata così casualmente. Questo non accadrà quasi mai, non accadrà quasi mai per il motivo sopraesposto. I più grossi pionieri dell'informatica come Sir Tim Barsley, il fondatore del protocollo WWW, oppure un altro biologo americano un po' più anziano, Jared Diamond, si pongono interrogativi di come riposizionare il rapporto della tecnologia, e lasciare spazio alla crescita dell'umanità, dell'uomo e la tutela, salvaguardare il rapporto umano. Perché mai più anche essi nella vita si sarebbero immaginati che si sarebbe messo in moto un meccanismo così micidiale. Micidiale perché i nostri giovani, io mi ricollego veramente con gioia alle parole del procuratore, il dottor Cascone, noi adulti non diamo un buon esempio a questi ragazzi, dopodiché pretendiamo da essi i migliori risultati, e se si legge la cronaca, non so voi nei vostri stati, ma noi nel nostro paese spesso leggiamo la cronaca di un papà che ha picchiato una professoressa, o l'altro giorno addirittura un genitore che ha malmenato l'arbitro di una partita di tennis qui a Milano perché aveva dato una penalità al figlio. I ragazzi non devono essere i primi, i ragazzi devono essere dei buoni cittadini, e non possiamo riporre la nostra frustrazione attraverso la loro vita. L'utilizzo della tecnologia spinge verso la depressione, verso l'isolamento, l'isolamento ti rende vulnerabile e aggredibile, e quindi il bullismo e il cyberbullismo si alimentano di questa caratteristica. La tecnologia, non volendo voglio sperare, alimenta e tutti i giorni accelera e fa diffondere questi fenomeni drammatici sociali. Quindi il GDPR è una cosa molto importante. L'ultima cosa che non ho sentito dire, e l'accenno io con onore e con gioia, noi in Italia, i nostri politici hanno reintrodotto la legge sull'educazione civica, che per un cavillo non è stata già messa, non è stata, per quanto promulgata dal Presidente della Repubblica, non è ancora attuale, perché io, e spero di farmi portavoce di tanti di noi, riteniamo che tutto parta, la contromisura, il contrasto, da una buona formazione scolastica, da una buona educazione civica e rispetto verso gli altri. La legge scritta nel governo precedente dei nostri politici, che andrà in vigore da settembre 2020, speriamo, perché è già pronta, è molto performante ed è molto bella. Io l'ho letta, parla dell'educazione verso se stessi, inteso come alimentazione, che cosa ingerisci in termini di alcol o di cibo, quindi anche il contrasto all'obesità o comunque a una cattiva alimentazione. Il rispetto verso gli altri, ovviamente, il rispetto verso l'ambiente, non inquinare. E poi, a coronamento, diciamo, di questa grande formazione abbastanza moderna, ci sono dei premi, sono istituiti dei premi per le scuole che partecipano a dei progetti e a fine anno potrebbero anche, diciamo, beneficiare di premi economici per fare altri progetti o altre cose. Io concludo qui, vi ringrazio e passo la parola al professor Bernardo. Grazie all'ingegner De Feo, la prima parte, quindi iniziamo la seconda parte della mattinata, passando poi la parola al sottosegretario Rizzi. Vi ringrazio davvero dell'attenzione che avete avuto nei nostri confronti, vi ringrazio per la pazienza e soprattutto, come dicevo, mi piace molto, dicevo prima e poc'anzi al sottosegretario Rizzi, che questo possa essere non l'incontro di oggi, ma un incontro che possa svilupparsi nel futuro. perché credo che la chiave, la che sappiamo tutti, è la prevenzione, perché quando il fatto è successo, è successo, possiamo solo correre i pari o curare o supportare e credo che gli adulti hanno un ruolo fondamentale, ma il luogo che hanno è soprattutto di stare in rete, solida e solidale. Grazie Alan. Io ringrazio te Luca, la grande capacità nell'affrontare un tema così importante con la professionalità e anche la capacità di sintesi, devo essere sincero, con la quale avete affrontato la giornata di oggi, sicuramente ci deve rendere orgogliosi, perché nulla è stato lasciato al caso da quel che si evince in maniera chiara e precisa e che niente si lascerà al caso. probabilmente diciamo che sulla base delle cose che abbiamo sentito oggi e la continua ascesa del tema e delle problematiche che abbiamo affrontato qualche cosa bisognerà ogni anno aggiungere, ma oggi noi siamo in grado, da quello che abbiamo sentito, di toccare qualsiasi settore, di essere a conoscenza di una serie di difficoltà e prontamente sapere che cosa fare. Quindi davvero complimenti a te nella selezione degli oratori, nella partecipazione ovviamente della disponibilità da parte di tutti perché so che non è facile, ma come ho detto prima anche nella capacità di sintesi, perché convegni come questo che affrontano tematiche difficili come questo magari diciamo che nell'arco della presentazione avrebbero avuto la necessità di maggior tempo. Invece siamo stati davvero molto contenti e orgogliosi di sentire le parole che abbiamo sentito oggi. Ora passiamo alla seconda.